Vai! Allora, che cosa facciamo oggi? Oggi vi faccio vedere le cose di Halloween nuove Oh! Prese da? Sì! Prese da Amazon! No! No! Sbagliato! Prese da Tiger! Grazie! Ok! Io so dietro la regia oggi! Sì! Oggi fa tutto lui! Allora, da Tiger cosa abbiamo preso? Questo qui! Attento che ti cade tutto! Ecco, appunto! Bisogna pure incassare! Eh! Bene! Incassati! Ok! Allora! Uno è il pentolone delle streghe! È della mamma! Eh, ovvio! Strega so io! Vado a fare dolcetto scherzetto o quello e col mantello dell'anno scorso! Poi abbiamo questo! Questo! Sarebbe tipo una ragnatela! Esatto, un cestino! Dove ci mettiamo tutte le zucchette! Sì! Che stanno là vicino al camino le zucchette! E poi che altro c'era? C'è quello! C'è quello! Fa molto occhio! Fa molto ocus-pocus! Sembra all'occhio quello del libro di ocus-pocus! È vero! Vabbè! Vabbè poi che altro... Dov'è la zucca? La zucca! La zucca nera dov'è? Che ci è arrivata pure qualcosa rotto dobbiamo incollare! Vabbè tanto faccio vedere! Aspetta! Che si illumina! Ma così lo scalini subito! Vabbè se ti si fa tutte le zucca nera! Poi questo! Che fa le zucca nera! Ok queste sono le cose nuove no? Poi le cose vecchie! Le cose che già avevamo prese nel corso di tutti gli anni di Halloween! C'abbiamo questo che è il mio! Questo è il suo cestino a cischio! Cestone! Poi ci stanno due zucchette! Non so se è qua! Non so quanto è la zucca nera! Ci sono due zucchette! Due zucchette più tutta la ragnatela che... Quest'anno però non mettiamo eh! No perché è troppo difficile! Ok! Però questa qui dentro la dobbiamo fare! Vabbè poi la leveremo! Però questo è molto carino! Mi pare che l'avevamo preso da Tiger anche questo! Sì mi sono stati sì! Mi sono stati sì! Non mi ricordo! Poi? Poi ci abbiamo questi! Vecchi! Queste immagini! L'arbero! Le vetrofanie si chiama! È vero! Guarda questo! Che brutto! E ci abbiamo un po' di vetrofanie! Vediamo se le mettiamo oppure no! Poi ci abbiamo tutti i ragni! Poi alcuni pastelli! Mhm! Questi! Poi c'è uno... Ci stanno... C'è una cosa che ho scritto! Halloween! Happy Halloween! Con tutti i teschi! La mano dello zombie! Questi! Questi! Vabbè sono tutte le vetrofanie queste! Poi... Quest'altro! Altri ragni! Tutte le dobbiamo far vedere! Tutte le! La casa! La casa! Poi l'altri ragni! Altri ragni con la zucca e i fantasmi! Poi c'è uno azzurro e un cappello! E... Poi c'è lo scheletri! Questo è il mio preferito! Scheletri Maghi! Poi alcuni... Eh vabbè c'è tante qui! Eh... C'è questo! Teschi! Poi questa! La strega! Vabbè... Poi non li... Manca uno! Questo! C'è c'è ben qui! Poi un altro scheletri! Due scheletri! Altri scheletri! Uno rotto! Poi ci abbiamo... Il cap... Il... Il cosa di Aurora! Il porta... Il caramello di Aurora! Questo! No! Non è quello quello di Aurora! Questo è vecchio! Questo era... Quando eravate piccolini piccolini dentro c'erano i Kinder! Qui c'è questo! Questi due erano i pappi! Sono attaccati! Ah le scritte! Sono attaccate! Le scritte sono! Sono attaccate le scritte! Prezza! Vabbè dopo le scritte! Poi c'è quello del babbo! No quello è sempre il mio! Ma è il tuo! Sì! Qui dentro che c'è? Macello! E poi c'è questo! Che è Jack! Poi dentro ci stanno tutte le lucine! Le lucine! No! Azucca! Azucca! E a più mistrello! Poi... C'è il vero scheletri! C'è un po' spaccato! Ah l'è Mortimer! No giusto! Mortimer! Il mio Mortimer! Guarda che si è incassato! È tutto incassato! Eh no! Ma io che ne so! Ma io che ne so! Vabbè! È incassato! Poi scastro tutto io! Comunque questo è Mortimer! È quello florescente! Qui dentro ci stanno tutti! Tutti i pipistelli! Che abbiamo fatto? C'è che ha fatto! No! Non ho fatto tutti! Quella era la borsina di Aurora del doccetto scherzetto di quando era piccola! Sì! Poi c'è... Sarebbero le tovaglie! No! Sono i copricuscini di Halloween! Sì! Copricuscini di Halloween! Sono tutti uguali quasi! Poi c'è quello di Aurora! Sì! La zucca! Ok! Dentro sempre le bagnatele! Poi c'è il cucchietto! Senza niente! Eh sì! Ha rotto! Allora lo buttiamo! No! Dove deve essere qui! Ah sì! Questi sono l'anno scorso! Sì! È vero! L'anno scorso! Non so niente! No! 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 Vabbè! C'è altra roba qui dentro! Ci sono altri cerchietti! Un po' di lavoretti loro di scuola vecchi! Questi qui! I festoni! Non l'aprire! E' un'attacca di bestogna! Ammortimer! Ammortimer! Quindi sono tutti i loro lavoretti! C'era questo che ho fatto io! No! Quello mi sarà fatto Aurora! Ma questo... E beh! C'è scritto! Ah! Scusami! E beh! Mi ricordo più! Pure questo mi sa! Sì! Pure quello l'hai fatto tu! Questo anche! Sì! Tutti i miei! Sì! C'è questa! La boccia! Brutta! Spaccata! Che dovrebbe attaccarsi a uno di questi! Vabbè! C'è un attacco! Così era? La birra che si spatteva in testa! Poi c'era un ascio! L'ascio! E' questo! I due che stavano dentro questi! C'è un attacco così! E vabbè! Ci sono questi! Quindi adesso che facciamo? Mettiamo tutto! C'è questo! Nuovo! Quello è nuovo! Sì! Sì! Non lo devo mettere in tutto il capo! Ma questo non lo devo mettere in tutto il capo! Che ha? Non lo sgrabbi! Ci stanno tutte le camere! Sì! Addobbiamo? Sì! Addobbiamo! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.